La fede si deve vedere Non una fiducia negli uomini, non una fiducia in qualcosa che non è niente, ma la fiducia in Dio, in Dio che non vediamo con i nostri occhi, ma sappiamo che esiste, lo sentiamo, sappiamo che ci ha salvati, sappiamo che ci ha fatto rinascere di nuovo e quindi c'è. Noi siamo sicuri che Dio c'è e come conseguenza di questa sicurezza c'è appunto la fede e la conseguenza della fede sono delle opere che noi facciamo. Noi conduciamo una vita e facciamo delle opere che manifestano la fede che c'è in noi. Infatti chi non ha fede in Dio si comporta come uno che non ha fede in Dio, fanno quelli che non hanno fede in Dio. Chi invece ha la fede in Dio, chi ripone la propria fiducia, tutta la propria vita nelle mani dell'iddio vivente, si deve condurre e deve vivere una vita in maniera che si veda che la sua fede è riposta in Dio. Quindi la fede è importante. Adesso andiamo a leggere, voglio iniziare con la contrapposizione tra la legge, la giustizia che viene dalla legge e la giustizia che viene dalla fede. Perché? Perché noi siamo stati salvati per la giustizia che viene dalla fede, non per quello che viene dalla legge. Ci sono due giustizie, quella dell'uomo, quella delle opere, quella della legge di Mosè e quella che invece viene dalla fede in Dio. Ecco, noi siamo stati salvati non per le nostre opere, ma siamo stati salvati per la fede che abbiamo avuto in Dio, nel sacrificio che Cristo ha compiuto e nella sua risurrezione. Questa fede che è un dono di Dio, ecco, la fede non è innata nell'uomo, non viene da sé, non se la crea l'uomo la fede, ma la fede viene da Dio. E leggiamo in Romani, capitolo 10, dal versetto 5. Infatti, Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che viene dalla fede dice, così, Non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne scendere Cristo. Né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo d'infra i morti. Ma che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, E avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia. E con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice, Chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, Perché lo stesso Signore è Signore di tutti, Ricco verso tutti quelli che lo invocano. Poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi qui Paolo contrappone la giustizia, La giustizia della legge, la giustizia delle opere, La giustizia dell'uomo. La contrappone a quella giustizia che viene dalla fede. Infatti la giustizia della legge di Mosè, La giustizia delle opere, cosa dice? Dice che l'uomo che farà tutte quelle cose, Vivrà. Vivrà perché sarà riuscito a compiere tutte le opere della legge. Però sappiamo anche che sta scritto in un punto Che chi fallisce in un solo punto della legge, Fallisce in tutti i punti. Questo cosa ci comunica la legge? Cosa ci comunica la scrittura con questo? Che all'uomo è impossibile praticare tutte le opere Che gradite a Dio. È impossibile. Quindi la legge non ti può salvare. Non può salvarti. Perché è incapace a salvarti. Perché? Perché? Che cosa la rende debole la legge? La legge è resa debole dalla nostra natura peccaminosa Che abbiamo ereditato da Adamo. Essendoci questa natura, Quando all'uomo gli dai un ordine, In lui scatta la ribellione. Ecco che quindi la ribellione in lui, Il peccato, la trasgressione, Prende forza dal comandamento. E la natura peccaminosa che c'è nell'uomo Lo porta a trasgredire. E secondo la legge bastava trasgredire anche una volta sola. Non era quindi possibile Essere salvati seguendo la legge. Ma il Dio cosa ha fatto? Ha stabilito una nuova giustizia. La giustizia che viene dalla fede. Per venire incontro all'uomo che era caduto. Una giustizia, c'è la giustizia della fede Che per mezzo della fede nel sacrificio che Cristo ha compiuto Noi siamo stati giustificati Chiunque ripone la sua fiducia Nel sacrificio di Cristo Nel sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce E lo spargimento di sangue che lui ha compiuto per il nuovo patto Per purificarci da ogni peccato Chi ripone la sua fiducia in questo Viene giustificato Cioè viene reso giusto da Dio Purificato dai suoi peccati Non per le sue opere Non perché se lo merita Non perché ne è degno Ma perché Dio ha avuto misericordia di lui Viene reso giusto Questo vedete quanto è importante Quindi quanto è importante la fede Perché è dalla fede che parte tutta L'incredente comincia la sua nuova vita La comincia da quella fede che ha avuto all'inizio Nel sacrificio che Cristo ha compiuto Quindi quello è l'inizio E quello deve essere anche la fine Perché poi la scrittura ci esorta continuamente A perseverare nella fede in Dio Non venire meno nella fede Perché sapete la fede può crescere Ma può anche diminuire E quindi il nostro compito è alimentare la fede Alimentare la fiducia che abbiamo in Dio Quindi mettere in atto tutti quei comportamenti Che ci fanno crescere nella fede in Dio E dopo vediamo da dove viene la fede Alla fine concluderemo appunto spiegando Cosa ci dice la scrittura Da dove viene la fede Quindi da dove Come può crescere la fede in Dio Nell'uomo Quindi abbiamo visto la contrapposizione Quindi delle opere con la fede E le scritture definiscono anche Cosa sia la fede E andiamo a vedere come In ebrei Dobbiamo andare in ebrei Al capitolo 11 Al primo versetto C'è la definizione della fede Questo è uno di quei versetti Fratelli e sorelle Che dovete imparare a memoria Questo è un versetto Ve lo scrivete Studiatevi voi un sistema Leggetelo una volta Tante volte al giorno Non so Fino a quando non lo imparate A memoria Questo versetto Lo dovete imparare a memoria Non vi deve abbandonare mai Quando si parla di fede in Dio Quando qualcuno si parlerà di fede Voi dovete subito pensare A questo versetto Di ebrei 11 Versetto 1 Perché? Perché la parola fede oggi Nel mondo Anche purtroppo Nel mezzo delle chiese Nelle chiese cristiane Viene utilizzato impropriamente Cioè viene utilizzato Per diversi motivi Ma noi Che ci vogliamo attenere Alle scritture Che ci vogliamo attenere A quello che Dio ci insegna Ci ha insegnato Secondo la sua volontà Ci dice Che la fede Nelle scritture Quando si parla di fede Ci si attiene a quello Che adesso noi leggeremo Ebrei 11 1 Non c'è una fede diversa La fede non è una religione La fede è calcistica La fede è religiosa La fede no La fede è questo Che adesso leggiamo Or la fede è certezza Di cose che si sperano Dimostrazione di cose Che non si vedono La fede è dimostrazione Cioè è certezza Quando si parla di fede Noi dobbiamo pensare Alla parola certezza Siamo sicuri Capite quindi Che quando noi abbiamo Diciamo di avere fede Sparisce il relativismo Sparisce il relativismo Massonico Sparisce il relativismo Religioso Che impera Oggi nelle comunità Ci attaccano Ci dicono Ah solo voi Avete la verità No veramente Noi conosciamo Quello che dicono Le scritture Abbiamo fiducia In quello che dicono Le scritture Crediamo che le scritture Dicano la verità E per noi Non è discutibile più È una cosa dimostrata È una cosa Come se fosse scientifica Cioè se tu Cade in acqua Ti bagni Io non ho il dubbio Che una persona Che cade in acqua Non si bagna Capite Cioè se uno Cammina nel fango Si sporca Quello è poco Ma è sicuro Capite Questa è certezza È dimostrato Se viene uno A dirmi a me No ma io anche se Mi butto nel fango Non mi sporco Quello a me Non mi può convincere Non ci deve convincere Se uno dice Ah ma io Sono omosessuale Ma non pecco Ma non è possibile Capite Ecco perché La Bibbia Non ha nulla a che fare Con relativismo Con quella cosa Che dice Che tutti hanno ragione Qui se un uomo Cade nel mare Va bene La questione Ve la metto In questi termini Se un uomo Cade nel mare Si bagna O no Solo una risposta Può essere giusta Non tutte e due Sì E no No Nella Bibbia Non ci sono Due risposte Opposte Che sono giuste Capite Quindi Questo si chiama Relativismo Per farvelo capire L'opposto Di relativismo È la certezza Assoluta Che dà fastidio A chi? Ai corrotti A quelli che non hanno Fede in Dio A quelli che vogliono Promuovere il relativismo Quindi Basta che uno Abbia fede Nella parola di Dio E in Dio Già Non accetta Il relativismo Non accetta Queste Queste parole Che provengono Che portano solo Dubbio E incertezze Non le accetta Non le accetta Perché già La fede Ti porta La fede in Dio Ti porta A escludere Tutte quelle cose Che sono incerte Ma se è scritto Che la salvezza È per fede Io ci credo Punto Per me la questione È chiusa Non ci possono essere Altre salvezze Non ci può essere La salvezza per opere Perché la salvezza È solo per fede Capite? Quindi È un punto fermo È un assolutismo Questo È assolutamente così Fermo È assoluto Non si muove più Questo concetto La salvezza È solo in Cristo Gesù Non è nel Papa Non è in altre cose È un punto fermo La fede Che noi abbiamo Ci porta Ad avere punti fermi Capite fratelli? Ecco perché è importante Che la fede cresca E abbondi E sia sempre presente in noi Perché Ci elimina Ogni incertezza Ogni dubbio Che può venirci Viene spazzato via Dalla fede E dalla parola di Dio Insieme E quindi è fondamentale È importante Conoscere le scritture E studiarle Ma è anche importante Avere fede In quelle scritture Che leggiamo Perché se le leggiamo E non abbiamo fiducia In Dio Non abbiamo fiducia In quello che leggiamo Non servirà niente Credetemi Quindi Ci serve la scrittura Ma serve anche Anche Ci serve La fede Nelle scritture Che noi leggiamo Quindi dobbiamo credere Che questa È parola di Dio Se è parola di Dio Non la dobbiamo Mettere in discussione Capite Cioè Chi crede Che la parola È parola di Dio Non la mette in discussione Non si mette a dire Ma sì Ma forse L'omosessualità Bisogna vedere Come sarà È una condizione È uno stato Non è peccato Questa confusione Non esiste nella parola Perché La parola ti dice Che l'omosessualità È un peccato Così come lo è L'adulterio La fornicazione La menzogna Il ladrocinio La frode L'inganno Capite Sono peccati Punto Non sono discutibili Non sono discutibili Questi peccati Di conseguenza Di conseguenza Ecco Ci accusano Ah ma voi siete Troppo perentori Siete così Siete quadrati Siete fondamentalisti Ma certo Siete fanatici Ma noi Noi crediamo Nella parola di Dio Non la possiamo più Mettere in discussione Chiamateci come volete Fondamentalisti Chiamate Siamo fondamentalisti Sì Poniamo il nostro fondamento In che cosa? Nella parola Del Dio vivente vero Nella parola di Dio Crediamo Riponiamo il nostro fondamento In essa E non ci vogliamo smuovere Non tutti purtroppo Non tutti Fanno questo Credono di più Nelle parole d'uomo Credendo nelle parole d'uomo Succede che Praticamente Non hanno Non hanno fede In Dio E quindi Non vivono Di certezze Ma vivono Di dubbi E di relativismo Cioè può essere Che ci hanno ragione Tutti Solo voi A noi ci dicono Solo voi avete ragione Ma non è che C'ho ragione Io Perché io stanotte Mi sono inventato Una cosa Ho avuto un pensiero No? Ho avuto un pensiero Dico Ah fratelli L'omosessualità È peccato E quindi Non bisogna farla Non ho Questo pensiero Non l'ho fatto io Io l'ho letto Nelle scritture E le scritture Condannano il peccato E io credo Che Certe cose Siano peccato Punto Come credo Anche tante altre cose Che Dio manda sogni e visioni Ancora oggi Che battezza con lo Spirito Santo Che guarisce Non c'ho dubbi Capite? Su questo Io non ho dubbi L'avevo un tempo Certo Perché la mia fede è cresciuta Cioè non è che ho creduto Tutto Da subito Ho creduto In Gesù Nel sacrificio Poi Mi si è presentate Le lingue Mi sono presentate I doni spirituali Mi sono presentati I doni di ministerio E diverse cose Che io non le ho credute subito Sono rimasto Un po' Perplesso E ho cominciato A studiare A pregare E man mano Credevo La mia fede Cresceva Studiavo la Bibbia E credevo nella Bibbia E quindi era scritto E di conseguenza Io ci credevo Adesso ci credo E nessuno me lo può smuovere Nessuno mi può smuovere Da quello che è scritto Perché io so Che è fedele Verace la parola Io so anche Credo anche Che Dio Dal nulla Dal nulla Ha fatto I cieli E la terra E tutto L'universo Quindi quando In Ebrei 11 Uno dice Dimostrazione Di cose Che non si vedono Facciamo un esempio Una cosa Che noi non vediamo È come Dio Ha fatto tutto I cieli E la terra E l'universo E tutte Tutte Queste Quest'immensità Perché non si può Misurare l'universo L'uomo non è in grado Di misurare l'universo E questo è stato fatto Da Dio Dal nulla Per me Per noi Che siamo credenti Abbiamo fiducia in Dio Se Dio ci dice Ho creato tutto Dal nulla Noi Nella nostra semplicità E nella nostra fede In Dio Diciamo Ha creato tutto Dal nulla Punto Non è discutibile Non ci sono Né ere geologiche Non ci sono Esplosioni varie Non c'è Big Bang Non ci sono Altre Perché per noi È dimostrato Cioè È una cosa Assolutamente certa Non discutibile Il fatto che tutto Provenga Da Dio E sia stato creato Da Dio E questa certezza È fede E si chiama Fede in Dio Ed è Vedete È scritto qui Nella definizione Dove la leggiamo In Ebrei 11 1 Dimostrazione Di cose Che non si vedono Cioè Noi crediamo Anche a quelle cose Che noi non vediamo Io credo Credo che anche voi Lo crediate Crediamo negli angeli Anche se magari Qualcuno li avrà visti Perché ad alcuni Si manifestano gli angeli Ad altri no Ma io Non ne ho visti Di angeli In forma di angelo È chiaro Se l'ho visto in forma Umana E non l'ho riconosciuto Perché gli angeli Possono prendere Anche una forma umana Se l'ho visto in forma umana È chiaro Non l'ho riconosciuto E niente Ma in forma d'angelo Io non li ho visti Angeli Non li ho visti Ma ci credo Nessuno mi può dire Che non esistono Ma tu non li hai visti Quindi non sei sicuro No no Io sono sicuro Che esistano Sono assolutamente sicuro Anche di questo Non li vedo Ma siccome la parola Dice che ci sono Io ci credo Io ci credo Il Dio non l'ho visto Ma ci credo Che esista Eh Come Non è che crediamo Solo a quello che vediamo Crediamo a quello Che ci ha detto Il Signore Questa è avere fiducia Dimostrazione quindi Di cose che non si vedono Cosa crediamo Vediamo anche Vedete La prima parte è composta Da queste altre parole Da queste altre parole Che dicono Ora la fede È certezza Vedete La fede cos'è È certezza Quindi dove c'è il dubbio E l'incertezza Non c'è fede Capite O meglio Una misura di fede Ci può essere C'è in alcuni La fede è maggiore In altri è minore Attenzione Non è che Vi ricordo Il fatto di Pietro Che camminava sulle acque E quindi aveva Una fede così potente Simile a quella di Gesù Che Gesù camminava sulle acque Era una fede Straordinaria Potente A un certo punto Guardando il vento Guardando il mare Le onde del mare Insomma Si è fatto La sua umanità Ha preso il sopravvento È venuto meno nella fede Ed è caduto nell'acqua Cioè Vedete Chi lo sosteneva Pietro Era la fede Quando questa fede è mancata È caduto nell'acqua E così è per noi Fratelli L'uomo Finché rimane Con la fiducia in Dio Viene sostenuto È sospeso Gli elementi del mondo Non lo toccano Il mare Porniamo che rappresenti il mondo E gli eventi naturali Tutte le problematiche Le tempeste Tutto Finché hai fede in Dio Tutte queste cose Non ti potranno mai danneggiare Mai scalfire In nessuna maniera Perché Perché tu hai fede in Dio E quella fede Ti sostiene in alto Ti fa sentire Vicino a Dio È la fede Vedete la potenza della fede Quanto è importante È importante È importantissimo È tra la cosa iniziale Più importante Ed sarà la cosa finale Più importante Insieme alla carità È la speranza Però la fede Deve Abbiamo iniziato Il nostro cammino Per fede E dobbiamo finire Per fede Questa fede Deve crescere Dobbiamo alimentarla Oggi stiamo parlando Di questo Per Porvi Questa questione Cioè che bisogna Applicarsi Affinché la nostra fede Cresca E badare E fare la guardia Affinché Non diminuisca E deve vedersi È chiaro No? Come ho intitolato Oggi Questo messaggio Questa predicazione Che la fede Si deve vedere Adesso andremo Andremo a vedere Alcuni esempi Di fede Vedremo alcuni esempi In cui la fede Si vede Si vede la fede Quindi quando la fede c'è Deve vedersi Quindi l'abbiamo detto In Ebrei 11.1 Abbiamo detto Che la fede È certezza Di cose che si sperano Se noi speriamo qualcosa Noi speriamo Che al ritorno Del Signore Nostro Gesù Cristo Noi saremo Rapiti Questa nostra Speranza Se La condizione Se abbiamo Fede È certezza Diventa certezza Quindi non ci sono dubbi Che noi andremo Col Signore Noi abbiamo anche La certezza Che Abbiamo la speranza Che se moriamo Perché il Signore Ancora magari non torna Ma se ce ne andiamo Noi col Signore Se abbiamo fede Questa speranza È certezza È certezza Che ce ne andremo Al cielo Il Signore ci chiama E andiamo Col Signore Ecco perché Quando ascoltiamo Qualcuno Che dice Che è un credente Gli facciamo Molte volte La domanda Ma tu Hai creduto Ma tu Sei sicuro Di essere salvato Ma tu Se muori Adesso Dove vai E questa Qualcuno L'ha chiamata La prova del fuoco C'è Quella prova Assoluta e certa Che in quel momento Se dice la verità Se dice la verità È quella Noi poi Se rende questa testimonianza Dobbiamo prenderla Per come la dice Non è che ci possiamo Poi opporre Più di tanto Cioè noi cerchiamo Di fare domande E quell'altro Rende testimonianza Se la testimonianza È verace Gloria a Dio Se è menzognera Ci inganna Però inganna a noi Ma non il Dio Quindi se uno muore È sicuro Per la fede Di andare col Signore Vedete Quindi c'è la fede La nostra non è presunzione Ci accusano Di essere presuntuosi Perché diciamo Di essere salvati Intanto C'è da Da togliere Il problema Da eliminare Il problema Che alcuni ci dicono Che diciamo Solo noi siamo salvati Ma non è assolutamente vero Frate Questa è una calunnia È una menzogna Noi diciamo Che quelli che hanno fede In Dio Sono salvati Io che ne so Dove sono tutti quelli Che in Italia Ne possa avere adesso Davanti a me Taluni Un certo numero Ma io Non posso dire Che solo noi Siamo salvati Saranno salvati Tutti quelli Che hanno fede in Dio Come dice la scrittura Ma non è che diciamo È chiaro che se vediamo Uno che non ha fede Che non ha fede in Dio Che è corrotto Sviato dalla verità Ma è chiaro che quello lì Sta andando verso la perdizione E gli diciamo Che se non si ravvede E non manifesta la fede E non cammina Come piace al Signore Rischia di andare all'inferno Ma non è che lo diciamo noi Questo Questo lo dice la scrittura Lo dice la parola di Dio Non noi Noi cerchiamo di parlare Non per mostrare I nostri pensieri Perché se no Cadiamo nella filosofia E nei discorsi vani Capite? Noi cerchiamo sempre Di esporre il concetto biblico A limite Con le nostre parole Cerchiamo di spiegare Ma stiamo spiegando Un concetto biblico Non un concetto Che ci siamo Inventati noi Nella nostra mente Capite? Quindi le nostre parole Servono a spiegare Secondo la grazia Che Dio ci ha dato Cosa è una certa dottrina Cosa è una certa cosa Scritta nella parola Ma questo non è Non è aggiungere nulla Né togliere nulla È soltanto aiutare Il fratello A capire Allargando la spiegazione Che noi potremmo limitarci A mettere insieme Dei versetti E parlare solo Cioè leggere solo i versetti Capite? E quella già È una predicazione Con la parola di Dio Senza aggiungere nessuna parola Però siccome noi Dio ha costituito I suoi servitori Che devono Anche a parole loro Cercare di spiegare Più semplicemente possibile Quello che è scritto nella parola Che magari taluni Non hanno capito Quindi quello che diciamo Allora se noi Se uno parla Va bene Per portare avanti Un concetto Che è proprio personale Quello sta sbagliando Ma se uno parla Per spiegare Attenzione Rendere Comprensibile Maggiormente Un concetto biblico Una dottrina biblica Quello Non sta parlando Per se stesso Non si è inventato nulla Sta cercando Di trasmettere Un insegnamento Biblico Agli altri Quindi Se uno è sicuro Di quello che ha capito È sicuro Di quello che Dio Gli ha rivelato È sicuro Che è scritto nella parola È sicuro Che non ci sono passi Che lo contraddicono Ma perché Devo essere in dubbio Perché devo essere in dubbio Che Dio oggi Dia ancora Sogni e visioni Cioè Fatemi capire Per quale motivo Io devo dubitare Che Dio Oggi Dia Doni Dei sogni E delle visioni Ai fratelli E alla sorella Ma io non lo posso Non posso dubitare Capite È una cosa certa È assoluta Io non ne ho avute Visioni Ma è scritto nella parola E ci credo Ci sono fratelli e sorelle Che le hanno avute Le visioni E ci credo Quando Dio me ne darà una Gloria a Dio Ma il fatto che non me ne ha date Non vuol dire Che non ci siano E che non le dia A chi vuole lui A me mi ha dato Qualcos'altro No Ma è chiaro Che ognuno di noi Non riceviamo Tutti le stesse cose Quindi Ognuno Deve chiedere a Dio Quello che desidera Naturalmente E poi Dio Gli darà A quello che lui ha stabilito Però se il fratello Ha ricevuto delle cose Diverse da me Io non è che Devo essere Invidioso Oppure pensare Che Dio a me Non mi ascolta Non sono Non sono Non sono un suo figliolo Prediletto No E che Dio stabilisce Come vuole lui Di dare le cose Come vuole lui Capite Quindi Se il fratello Ha ricevuto Io lo desidero pure Lo desidero Lo cerco Fino alla fine Non mi importa Se Se non avviene subito Lo devo cercare Questo mi è comandato Perché Dio Fa crescere Dio dà Le cose Ma noi le dobbiamo Desiderare Ardentemente E ricercare Noi dobbiamo Bussare Intensamente Il più possibile Poi sarai Dio Ad aprire la porta E noi dobbiamo Bussare Fino a quando Questa porta Non si apre Oppure Dio ti dice No Lì quella porta è chiusa Non si apre Passa dall'altra parte O ti dice così O se no La porta si deve aprire Noi Siamo chiamati A bussare Del continuo In preghiera A domandare A Dio Quindi la fede Certezza di cose Che si sperano Dimostrazione Di cose Che non si vedono Vedete Quando c'è la fede Si parla di certezza Quando ci sono Dei dubbi Si fallisce E' chiaro che Il caso più Più chiaro di tutti E' questo Che in talluni avviene Pregano il Dio Va bene Si prega il Dio Si sta pregando Signore Dammi questo E poi c'è il pensiero Nel momento in cui Fate una richiesta C'è un pensiero Che passa nella testa Che dice Ma tanto a me Non me lo dà Tanto io Non ne sono degno Tanto a me Dio non mi ascolta Ecco Quella non è fede Fratelli e sorelle Voi dovete spazzarli via Questi pensieri Che non sono da Dio Cioè Io capisco Che Dio Non ci esaudisce In tutto Perché? Perché lui ci esaudisce Solo per quelle cose Che sono Secondo la sua volontà E quelle cose Che domandiamo Con fede Ma se noi domandiamo Da una parte Gli stiamo domandando E dall'altra Siamo già convinti Dentro di noi Che non riceveremo Quelle cose Che non le riceveremo Se tu sei sicuro Se tu sei sicuro Che non le ricevi Ma non le domandare Neanche Perché Giacomo dice Non pensi già A quel tale Di ricevere qualcosa Da Dio Se non prega Con fede La fede È certezza Quindi quando preghiamo Dobbiamo essere Prima di tutto Sicuri Che Dio ci ascolti E sicuri Che Dio ci possa dare Quella cosa Che sia potente Da potercela dare E sicuri Che ce la darà Poi se non ce la darà Sarà perché Per noi è meglio così Capite? Perché la sua volontà È diversa Perché alla fine Dobbiamo sempre chiudere La preghiera Magari dicendo Sia fatta la tua volontà Non la mia Però io ho desiderato Queste cose E le ho domandate Siano rese note A Dio In preghiera Tutte le vostre richieste No? Vi ricordate Questi passi Noi dobbiamo rendere note Tutti i nostri desideri Le nostre richieste A Dio In preghiera Inginocchiati Faccia a terra Questa è la preghiera Quando parlo di preghiera Parlo di questa Non di quelle meditazioni Camminando per strada O guidando la macchina Non voglio dire Che quelle non servano Ma io quando parlo di preghiera Mi intendo Quel Chiuderti nella tua cameretta Inginocchiarti E adorare Glorificare Dio Pregando Dio In quella In quella maniera Quindi Fratelli Spazzate via Questi pensieri Di dubbio Di incertezza Se ci sono E' chiaro Io non lo so Ma in qualcuno Che magari sentirà anche dopo Questa predicazione Ci può essere Signore Salva Mio marito Ah vabbè Ma tanto tu Non lo vuoi fare Signore Salva mio figlio Ah ma tanto Non ho visto segnali Ancora Che Ma come fai A domandare una cosa E ti dai subito Una risposta negativa In quel momento In quel momento Nel tuo cuore Andare più indietro Anche dal nuovo Dal nuovo testamento Badate bene Che La salvezza Voglio anche sfatare Quest'altro Quest'altro pregiudizio Questi altri discorsi Che taluni fanno La salvezza E' stata per fede Da sempre Capite C'è anche nel vecchio testamento I profeti I re Quelli che sono stati salvati Sono stati salvati Per la fede Che avevano in Dio Non per le opere Perché per le opere Non è possibile oggi Essere salvati E non è mai stato possibile Quindi Quei profeti Quei servitori Di Dio antichi I patriarchi Abramo Isacco Giacobbe Abele anche Sono stati graditi A Dio Non perché facevano Delle opere Facevano anche Delle opere Giuste Ma sono stati graditi A Dio Soprattutto perché Avevano fede in Dio Infatti Abramo è stato Giustificato Perché ha avuto fede In Dio Non perché ha compiuto Delle opere Le opere Cosa servono Le opere Le opere Servono anche quelle Ma le opere Sono una manifestazione Della fede Capite Cioè Se c'è la fede Ci sono anche Le opere Ma a noi Non è che ci interessano Le opere Perché le opere Ci danno Un buon grado Davanti a Dio No Le opere Noi le guardiamo Perché le opere Ci dicono Quanta fede c'è In quel fratello In quella sorella Quanta fede c'è In noi Cioè le opere Raccontano Fanno la spia Della fede Che c'è in noi Questo lo dice Giacomo Mi sembra Al capitolo 2 La fede La fede E anche a compiere E anche a compiere E anche a compiere le opere Perché questo è scritto E questo dobbiamo fare No? A santificarci E compiere buone opere Questo dobbiamo fare Perché dalle buone opere Si vede la fede Se uno Non si santifica Se uno Non compie delle opere È chiaro Che la prima La prima cosa Che si nota È che ha poca fede In Dio E è sempre lì È sempre la fede Se uno è corrotto Non può avere una fede Una grande fede È sviato Quanta la fede E la fede È morta In lui Se vive nel peccato Se non ha opere Buone Se non compie Opere buone La fede In lui È morta Come dice Giacomo Quindi la fede È importante Le opere Manifestano Quello che Quello che uno fa E quello che uno dice Anche a parole Manifestano La fede Che ha Nel cuore E noi Negli esempi Che faremo Andremo proprio A vedere questo Dal comportamento E dalle parole Che terranno Che faranno Le persone I nostri fratelli O le persone Comunque Che citeremo Vedremo La fede Che c'era In loro La si vede Dalle opere Che fanno Iniziamo Col primo esempio Col primo esempio Che a me piace molto Questo che Se ne parla poco Ed è per questo A me è sempre piaciuto Questo Esempio Di fede Dobbiamo andare In Prima Samuele Al capitolo Quattordici Qui ci sono diversi versetti Oggi forse faremo Un po' Sarà un po' lungo Ma è così La fede È importante Capitolo quattordici Di Prima Samuele Dal versetto 1 Or avvenne Or avvenne Che un giorno Jonathan Figliolo di Saul Disse al giovane Suo scudiero Lo scenario In cui si muove Questa È che c'erano I due eserciti C'era l'esercito Dei filistei Contro l'esercito Di Israele Che erano in guerra Erano Nei loro campi Appostati Pronti a farsi la guerra Va bene Si stavano preparando Ma ancora Non era deciso L'inizio Della battaglia Non si erano ancora Non si erano ancora Scontrati L'uno con l'altro Erano in attesa Della decisione Di scontrarsi I due eserciti In mezzo a questa situazione Ecco Che cosa fa Jonathan Jonathan Era il figlio Del re Di Israele Di quell'epoca Che era Saul Quindi Jonathan Il figliolo Di Saul Il re di Israele Insieme al suo scudiero Accaddero A loro due Accaddero queste cose Or avvenne Che un giorno Jonathan Figliolo di Saul Disse al giovane Suo scudiero Vieni Andiamo verso La guarnigione Dei filistei Che è dall'altra parte Ma non Ne disse Nulla A suo padre Saul Stava allora All'estremità Di Ghibea Sotto il Melagrano Di Migron E la gente Che aveva secco Noverava Circa Seicento Uom E Aia Figliolo di Aitub Fratello Dicabod Figliolo Di Phineas Figliolo Deli Sacerdote Dell'Eterno Ascilo Portava L'Ephod Il popolo Non sapeva Che Jonathan Se ne fosse andato Or fra i passi Attraverso Ai quali Jonathan Cercava Di arrivare Alla guarnigione Dei filistei C'era Una punta Di rupe Dall'altra parte Una Si chiamava Bozzetz E l'altra Sene Una di queste punte Sorgeva Al nord Di rimpetto A Mikmas E l'altra A mezzogiorno Di rimpetto A Ghibea Jonathan Disse Al suo Giovane Scudiero Vieni Andiamo Verso La guarnigione Di questi Incirconcisi Forse L'Eterno Agirà Per noi Poiché Nulla Può impedire All'Eterno Di salvare Con molta O con poca Gente Il suo Scudiero Gli rispose Fa tutto Quello Che ti sta Nel cuore Va pure Ecco Io sono Teco Dove Il cuore Ti mena Allora Jonathan Disse Ecco Noi Andremo Verso Quella Gente E ci Mostreremo A loro Se ci Dicono Fermatevi Finché Veniamo Da voi Ci Fermeremo Al nostro Posto E non Saliremo Fino Allora Ma se Ci Dicono Venite Su Da noi Saliremo Perché L'Eterno Li avrà Dati Nelle Nostre Mani Questo Ci Servirà Di segno Così Si Mostrarono Ambedue Alla Guarnigione Dei Filistei E i Filistei Dissero Ecco Gli Ebrei Che escono Dalle Grotte Dove S'erano Nascosti E Gli Uomini Della Guarnigione Rivolgendosi Rivolgendosi A Jonathan E Al Suo Scudiero Dissero Venite Su Da Noi E Vi Faremo Saper Qualcosa Jonathan Disse Al Suo Scudiero Sali Dietro A me Poiché L'Eterno Li ha Dati Nelle Mani D'Israele Jonathan Salì Arrampicandosi Con le Mani E Con i Piedi Seguito Dal Suo Scudiero E I Filistei Caddero Dinanzi A Jonathan E Lo Scudiero Dietro Lui Dava Loro La Morte In Questa Prima Disfatta Inflita Da Jonathan E Dal Suo Scudiero Caddero Circa Venti Uomini Sullo Spazio Di Circa La Metà Di Un Iugero Di Terra E Lo Spavento Si Sparse Nell'accampamento Nella Campagna E Fra Tutto Il Popolo La Guarnigione E I Guastatori Furono Anch'essi Spaventati Il Paese Spavento Di Dio Vedete Fratelli C'erano Due Eserciti Schierati Siccome Jonathan Aveva Fede In Dio Jonathan Aveva Fede In Dio E Infatti Lo Dice Dice Per Il Signore Salvare Con Molta O Con Poca Gente È La Stessa Identica Cosa Perché Perché La Vittoria È Dio Che La Dà Non Importa Quanti Siamo In Battaglia E Questo Ha Anche Il Duplice Significato Che Noi Non Importa Quanti Siamo Noi Di Numero Quali Diciamo Quantitativamente Che Abbiamo Creduto Nella Parola E Che Seguiamo La Parola Così Come Scritta Noi Non Ci Interessa Nulla Il Numero Perché Perché Il Credente Si Deve Distinguere Per La Sua Qualità Non Per Il Numero Che Abbiamo Infatti Nelle Scritture È Sempre Scritto Che Il Il Greggio Di Dio È Un Piccolo Greggio Non È Un Grande Greggio Noi Non Abbiamo Mai Badato Al Numero Perché Sappiamo Che Non È Il Numero Che Ci Darà La Vittoria Noi Abbiamo Sempre Cercato Di Concentrarci Nella Qualità Del Credente Nel Dare La Crescita Far Crescere I Credenti Spiritualmente Non Farli Crescere Solo Non Aumentare Di Numero Il Locale I Seguaci I Discepoli Far Crescere Di Numero I Discepoli Non Importa Di Quale Qualità Siano No Noi Abbiamo Cercato Di Far Crescere Discepoli Certo Annunziando L'Evangelo E La Verità Ma Rigettando Quelli Che Non Volevano Poi Servire Il Signore Come Scritto Nella Parola Non Ci Interessa Siamo Stati In Pochi Eravamo 3 4 5 7 Eravamo 3 4 5 6 A dire Queste cose Che diciamo Oggi Adesso Glorie a Dio Siamo Un po' Di più Ma A noi Ci interessa Soprattutto Che questo Po' Di più Però Cresca Qualitativamente Cosa Ne facciamo Di un Numero Enorme Di Credenti Che Si Dicono Credenti Non Hanno Fede In Dio E Non Hanno Fede Nella Parola E Non Si Santifica Non Ce Ne Facciamo Niente Noi Non Vogliamo Questi Numeri Noi Vogliamo Sentire Che I Fratelli Col Quale Siamo In Comunione Stanno Crescendo Nella Fede Nelle Opere Nella Santificazione Questo È Il Nostro Desiderio E Qui Jonathan È Un Esempio Appunto Di Questo Perché Jonathan Da Solo Col Suo Scudiero Ha Dato L'assalto Alle Schiere Alle Agguarnigioni Dei Filistei Fratelli Perché Aveva Fede Signore Salvare Dare La Vittoria Con Poche O Molta Gente È La Stessa Identica Cosa Fratelli È Quello Che Conta Per Noi È Che Dio Sia Con Noi Non Che Un Grande Numero Sia Con Noi Capite Che Ci Importano Essere La Maggioranza Dei Credenti Evangelici Però Dio Non È Con Noi Perché Purtroppo È Così Dio Non È Dalla Parte Della Maggioranza Delle Comunità Evangeliche Oggi Perché Si Sono Dati A Seguire L'uomo Non La Parola Di Dio Capite Ecco Perché Dio Non È Con Loro Ma Non È Che Tutti I Credenti Che Frequentano Le Incerti Sono A Limite Possiamo Definirlo Alcuni Sono Dei Cari Fratelli Però Devono Essere Decisi Perché Se Lì In Quelle Comunità Si Insegnano Delle Falsità Principi Massonici Che Cosa Ci Fai Tu In Quella Comunità Non Ci Fai Niente Tu Devi Andare Con I Fratelli Che Adorano Il Dio E Credono A Quello Che È Scritto Nella Sua Parola Nessuno Di Noi È Perfetto Non Stiamo Cercando Una Chiesa Perfetta Né Possiamo Creare Una Chiesa Perfetta Ma Noi Cerchiamo I Fratelli Che Si In Girocchiano Davanti A Dio Che Credono In Dio Che Sono Sinceri Che Non Nascondono Il Peccato Che Lo Confessano A Dio Che Cercano Si Impegnano A Santificarsi Questi Sono I Credenti Perfetti Ma Credenti Che Si Vogliono Perfezionare Con Tutto Il Cuore Quelli Cerchiamo E Quindi Vedete Il Primo Esempio Di Jonathan Che Da Solo Col Suo Scudiero Die La Battaglia Alla Guarnigione Dei Filistei E Vince Da Solo Insieme Al Suo Scudiero Perché Dio Gli Ha Dato La Vittoria Dopo Questo Si Si sente La Battaglia Nel Campo Anche Il Resto Dell'esercito D'Israele Sentendo Quella Battaglia Sentendo Il rumore Di battaglia Insomma Si Mossero E Attaccarono Si Decisero Ad Attaccare Vedete Questo Ci Dice Anche Che A Volte C'è Bisogno Che Qualcuno Muova Guerra Che Muova La Guerra Affinché Il Popolo Di Dio Abbia La Vittoria E Si Liberato Da Quell'impaccia Da Quel Blocco Che a volte Ha di Paura Qualsiasi Cosa Che Lo Frena Perché Purtroppo Molti Fratelli Erano Frenati C'era Qualcosa Che Li Frenava Allora Vedendo Che Si è Creato Che C'erano Dei Fratelli Come Noi Che Enunziavano Determinate Cose Si Sono Presi Di Coraggio E Sono Andati In Battaglia Anche Loro E Glorie a Dio Noi Siamo Combattenti Il Signore Quindi Ci dobbiamo Muovere Dobbiamo Manifestare La nostra Fede In Dio Combattendo Per la Verità Non Spargendo Veramente Del sangue Umano Non Combattendo Dando colpi O Con Violenza Ma Combattendo Con la Parola Di Dio Combattendo Con la Parola Con la Spada Della Parola E Difendendosi Con lo Scudo Della Fede Quindi Il popolo Di Dio Deve Essere Un popolo Pieno Di Fede Pronta All'azione Agire Bisogna Anche Agire Non Si Può Stare Sempre Fermi Ad Aspettare Che Si Muovano Gli Altri Dobbiamo Dobbiamo Avere Una Fede Operante Una Fede Che Mette In Opera Quello Che Uno Ha Creduto Un Altro Esempio Di Fede Che Volevo Citarvi Che Questo E Un po' Più Conosciuto Da Tutti Esempio Di Fede Perché Perché Anche Qui C'erano Gli Eserciti Uno Di Fronte All'altro Scendeva Il Campione Un Uomo Il Campione Che La Scrittura Lo Descrive Così Al Capitolo 17 Di Sempre Di Prima Samuele Capitolo 17 Dal Versetto 4 Or Dal Campo Dei Filistei Uscì Come Campione Un Guerriero Per Nome Goliath Alto Sei Cubiti E Un Palmo Aveva In testa Un elmo Di rame Era vestito D'una Corazza Squame Il Cui Peso Era Di Cinquemila Sicli Di Rame Portava Delle Gambiere Di Rame E Sospeso Dietro Le Spalle Un Giavellotto Di Rame L'asta Della Sua Lancia Era Come Un Subbio Di Tessitore La Punta Della Lancia Pesava Seicento Sicli Di Ferro Sua Targa Lo Precedeva Egli Dunque Si Fermò E Volto Alle Schiere D'Israele Gridò Perché Uscite A Schierarvi In Battaglia Non Sono Io Il Filisteo E Voi Dei Servi Di Saul Scegliete Uno Fra Voi E Scenda Contro Da Me Se Egli Potrà Lottare Con Me Ed Uccidermi Noi Saremo Vostri Servi Ma Se Io Sarò Vincitore E E Il Filisteo Aggiunse Io Lancio Oggi Questa Sfida A Disonore Delle Schiere D'Israele Datemi Un Uomo E Ci Batteremo Quando Saul E Tutto Israele Udirono Queste Parole Del Filisteo Rimasero Sbigottiti E Presi Da Gran Paura Vedete Questo 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 Gigante No Questo gigante Goliath Era alto Sei Cubiti E Metri Erano Più di Tre Metri Tre Metri E Un Pal Era Alto Tre Metri Ed Era Robusto Era Tutto Corazzato E Come se Noi Andessimo In Battaglia Contro Un Carro Armato Capite E Come andare In Battaglia Contro Un Carro Armato All'epoca Era Così Uno Da Solo Prende E Va In Guerra Va A Combattere In Una Sfida Singolare Contro Un Carro Armato A Pochissime Probabilità Di Vittoria Era Tutto Corazzato Era Pieno Di Armi Potenti E Pesanti Era Fisicamente Un Gigante Infatti Il Popolo Di Israele Lo Temeva Ma Davide Il Giovinetto Davide Che Si Trovò Era Un Giovinetto Non Era Stato Chiamato In Battaglia Sentì Che Quest'uomo Questo Gigante Insultava Le Schiere Di Israele E che Israele Nessuno Di Israele Scendeva In Battaglia Contro Questo Gigante Perché Avevano Paura Di Questo Qui Allora Davide Davide Si Mosse Lui A Combattere Contro Contro Questo Gigante Perché Davide Poco Tempo Prima Era Stato Unto Quindi Era Stato Scelto Da Dio Come Re Di Israele Era Stato Unto Da Samuele E Quindi In Lui Operava Operava Diciamo Sicuramente In Lui Era Entrato Lo Spirito Del Dio Vivente E Aveva La Forza La Forza Che Dà La Fede In Dio Coraggio E Forza Poi Leggiamo Allora Davide Scese In Battaglia Contro Questo Gigante E Andiamo A Leggere Quindi I Diciasette Quaranta Diciasette Quaranta Davide Scende in Battaglia Contro Goliath E Prese In Mano Il Suo Bastone Si Scelse Nel Torrente Cinque Pietre Ben Lisce Le Pose Nella Sacchetta Da Pastore Che Gli Serviva Di Carniera E Con La Fionda In Mano Mosse Contro Il Filisteo Il Filisteo Anche Egli Si Fe Innanzi Avvicinandosi Sempre Più A Davide Ed Era Preceduto Dal Suo Scudiero E Quando Il Filisteo Ebbe Scorto Davide Lo Disprezò Perché Egli Non Era Che Un Giovinetto Biondo E Di Bell Aspetto Il Filisteo Disse A Davide Sono Io Un Cane Che Tu Vieni Contro A Me Col Bastone E Il Filisteo Maledisse Davide In Nome Dei Suoi Dei E Il Filisteo Disse Davide Vieni Qua Che Io Dia La Tua Carne Agli Uccelli Del Cielo E Alle Bestie Dei Campi Allora Davide Rispose Al Filisteo Tu Vieni A Me Con La Spada Con La Lancia E Col Giavellotto Ma Io Vengo A Te Nel Nome Dell'Eterno Degli Eserciti Delli Dio Delle Schiere D'Israele Che Tu Hai Insultato Oggi L'Eterno Ti Darà Nelle Mie Mani E Io Ti Abbatterò Ti Taglierò La Testa E Darò Oggi Stesso I Cadaveri I Cadaveri Dell'esercito Dei Filistei Agli Uccelli Del Cielo E Alle Fiere Della Terra E Tutta La Terra Riconoscerà Che Vi È Un Dio In Israele E Tutta Questa Moltitudine Riconoscerà Che L'Eterno Non Salva Per Mezzo Di Spada Né Per Mezzo Di Lancia Poiché L'esito Della Battaglia Dipende Dall'Eterno Ed Egli Vi Darà Nelle Nostre Mani E Come Il Filisteo Si Mosse E Si Fe Innanzi Per Accostarsi A Davide Davide Anche Egli Corse Prestamente Verso La Linea Di Battaglia Incontro Al Filisteo Mise La Mano Nella Sacchetta Ne Cavò Una Pietra La Lanciò Con La Fionda E Colpì Il Filisteo Nella Fronte La Pietra Gli Si Conficò Nella Fronte Ed E Cadde Bocconi Per terra Così Davide Con Una Fionda E Con Una Pietra Vinse Il Filisteo Lo Colpì E Lo Uccise Senza Avere Spada Alla Mano Poi Davide Corse Si Gettò Sul Filisteo Gli Prese La Spada E Sguainatala Lo Mise A Morte E Gli Tagliò La Testa E I Filistei Vedendo Che Il Loro Eroe Era Morto Si Diedero Alla Fuga Poi Gli Uomini D'Israele Lo Inseguirono Il Popolo E Ne Uccisero Moltissimi Vedete Fratelli All'apparenza All'apparenza Agli occhi No Agli occhi Di quel Filisteo Davide Era un Giovinetto Non aveva Neanche L'armatura Non aveva Neanche Una Spada E Non aveva Neanche Una Lancia Non aveva Attrezzature Col quale Poteva Offenderlo Secondo Il Filisteo Non aveva Attrezzature Col quale Poteva Offenderlo Fagli Del Male Ucciderlo Secondo Il Filisteo Ma Cosa dice Davide Che Non era Per la Spada Non era Per la Lancia Non è Per quegli Strumenti Umani Che si ottiene La vittoria Nella battaglia Che si ottiene L'esaudimento Della preghiera Che si ottiene Quello che uno Desidera Non è Guardando Con gli occhi Umani Che si può Ottenere L'esaudimento Nei nostri Desideri Davanti a Dio Ma la battaglia Si vince Guardando Con gli occhi Della fede Davide Ha guardato Con gli occhi Di Dio Perché Dio È il Vincitore E lui Sapeva Che Dio Era con lui Fratelli E questa Era la sua Certezza Questa Era la sua Fede Che Dio Era con lui Che Dio Era con lui E gli avrebbe Dato la Vittoria Non importa Che cosa Avesse in mano Che cosa Gli avrebbe Tirato Ma Dio E lui Davide Era sicuro Che gli avrebbe Dato la vittoria E così È avvenuto È bastata Una pietra Nell'armatura C'era un Punto C'erano Qualche punto Debole C'era E nella fronte Si conficò In un punto In cui È passata La pietra Attraverso L'armatura In un punto Che aveva Dell'armatura Scoperto E quella Piccola pietra Non era molto Grande Era una piccola Pietra Liscia Gli si Conficò Nella fronte Capite? Questo È un altro Esempio Di fede Fede perché Davide È andato Contro questo Carrarmato Dell'epoca Contro questo Questo strumento Potente di guerra Che tutto l'esercito Aveva temuto Ma Davide Giovinetto Si è scagliato Per difendere Le schiere Di Israele Perché quest'uomo Questo gigante Aveva insultato L'Eterno E aveva Insultato Le schiere Le schiere Di Israele E lui Non l'ha potuto Sopportare Lo spirito di Dio Che era in lui L'amore Per l'Eterno Lo ha Sospinto A difendere Lui Il nome Di Dio A difendere Lui Le schiere Di Israele Perché Era stato scelto Come servitore E in lui Albergava Quella fede Quella fede In Dio E quella fede Lo fece vincere Ed è per questo Anche che Questa Questa Battaglia Questa battaglia Di Davide Contro Goliath Contro un gigante È un esempio Di fede Possiamo anche Dargli una figura A questo Ognuno di noi C'ha un gigante Che combatte C'ha un problema Una malattia C'ha un marito Non convertito Un figlio Magari disordinato Un qualcos'altro Ce l'ha Il suo Goliath E come deve Combattere Questa battaglia Per vincere Contro Goliath Deve prendere Le armi Umane Deve prendere Le armi Conosciute Dal mondo Per cercare Di vincere Questa battaglia No Fratelli E sorelle È la fede Che ci darà Questa vittoria È l'inginocchiarsi Davanti a Dio E gridare Tu Puoi darci La vittoria Tu A te solo Appartiene La vittoria Oddio Che hai fatto I cieli E la terra È qui Che si ottiene La battaglia E Goliath Cadrà a bocconi A terra E sarà Eliminato Il problema Per quanto Grosso Possa essere Possiamo agire In due maniere O come faceva Israele Che vedeva Goliath Un gigante Indistruttibile E non lo affrontava Neanche O possiamo fare Come Davide Io sono figliolo Dell'Edi Altissimo Anche noi Siamo figlioli Dell'Edi Altissimo E Dio Ci ha rigenerati Ha messo in noi Nella fede La fiducia In Lui L'abbiamo Sperimentato Tante volte Ci ha liberato Da tanti mali Ci ha esauditi E allora Dobbiamo scendere In battaglia Anche per combattere Il nostro Goliath Dobbiamo scendere In battaglia Per affrontare Anche quel grande Problema Con gli occhi Con gli occhi Nostri Con gli occhi Umani Quel problema È grande Ma se guardiamo Con gli occhi Di Dio Se saliamo Al tempio Di Dio E guardiamo Dall'alto Dalle mani Dell'Edi Altissimo Ci affacciamo A guardare Com'è Questo problema Ebbene Lo vediamo Molto più piccolo Lo vediamo Molto più piccolo Se lo guardiamo Con gli occhi Della fede In Dio Perché a Dio Appartiene la vittoria A Dio Appartiene Risolvere Ogni questione È a Dio È la fede Che dobbiamo avere In Dio Che ci darà Tutte le vittorie Che noi avremo In questa vita Ecco perché è importante Avere fede E crescere E studiarsi Studiarsi Di crescere Nella fede Di mettere In atto Ogni cosa Che ci serve Per crescere Nella fede In Dio Perché è questa Che ci darà La vittoria Tutto quello Di cui avremo Bisogno Ci sarà dato Perché avremo Avuto fede In Dio Senza questo Niente Non otterrete Niente Né voi Né io Né nessuno Senza fede in Dio Quindi L'ha detto Giacomo Siccome l'ha detto È scritto Nella parola Sappiate Che La scrittura Non può mentire Non mente Quindi Le cose stanno così Se otterremo qualcosa È perché Avremo avuto Fiducia E anche Perché era Nella volontà Di Dio È chiaro Perché uno Può avere Anche fede In Dio Ma non Ottenere Quella cosa E questo Non vuol dire Che Dio Non ti ha Ascoltato Vuole semplicemente Dire che non Era per te Che Dio Ha un altro Disegno Un altro Piano Diverso E quindi Lui Porta avanti I suoi piani I suoi disegni Ma a noi È richiesto Di agire Di operare Avendo fede Non Non di agire Con incertezze E sfiducia Nel Signore Ma avendo Piena fede In Dio Adesso Fratelli Passiamo Al Nuovo Testamento Vediamo altri esempi Di fede Che ci sono Nei Vangeli Andiamo Al Vangelo Di Marco Questo è un altro Passaggio Come esempio Di fede Che a me Piace molto Piace molto E ce l'ho sempre presente Nella mia mente Perché È pieno Di significati Come Tutte le scritture Del resto È pieno Di significati E ci insegna Molte cose Andiamo Al Vangelo Di Marco Al capitolo Due Leggiamo Quello che Marco Ha scritto A riguardo Della guarigione Del paralitico Di Capernaum Leggiamo queste parole E dopo alcuni giorni Egli entrò Di nuovo In Capernaum Entrò E si seppe Che era in casa E si raunò Tanta gente Che neppure Lo spazio Dinanzi alla porta La poteva contenere Ed egli Annunziava loro La parola E vennero A lui Alcuni Che menavano Un paralitico Portato da quattro E non potendolo Far giungere Fino a lui A motivo Della calca Scoprirono Il tetto Dalla parte Dove era Gesù E fattavi Un'apertura Calarono Il lettuccio Sul quale Il paralitico Giaceva E Gesù Veduta La loro La loro fede Peccati Capite Ma non è per questo Adesso che Ho citato Questo passaggio Che comunque C'è anche Altri insegnamenti Nelle parole Di Gesù Ma io Ho voluto Ho voluto Citarvi questo La situazione Era questa Gesù Gesù Poteva Difficile Difficile Non lo so Adesso Bisognerebbe Conoscere Un po' L'ingegneria Edile Di Quell'epoca Per sapere Quanta fatica Uno Uno Poteva Fare Quanto fosse Difficile Scoperchiare Un tetto Comunque Lo hanno fatto Sono saliti Sul tetto Hanno scoperchiato Il tetto Hanno aperto Una voragine Sul tetto Grande Sufficientemente Per fare Che cosa? Per far scendere Lo storpio Davanti a Gesù Cioè davanti A tutta quella calca Di gente Non gli interessava Niente A loro Non gli interessava Niente Quello che avrebbero Detto gli altri Il proprietario Della casa Che la calca Aveva bloccato Il passaggio Nella porta Non gli interessava Niente Neanche 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 Diciamo che Gesù stava parlando E venisse interrotto Cioè fratelli Questo E infatti Gesù Quando vide questo Cosa disse? Disse Veduta La loro fede Vedete Quando la fede c'è Le opere Che uno compie La devono manifestare Si deve manifestare La fede Che uno ha Non può rimanere Nascosta La fede Che c'è In un credente Si deve vedere Si deve manifestare Infatti Gesù Disse Veduta La loro fede E guarì Lo storpio Queste persone Non si sono Fatte fermare Questi quattro Più lo storpio Quindi in totale Erano cinque Questi quattro Non si fermarono Davanti a nessun tipo Di problema Quante volte Noi tentiamo Di risolvere Di avere fiducia In Dio E di ottenere qualcosa E ci sono Delle persone Davanti a noi Che ci chiudono La strada Che ci chiudono Il passaggio Al trono Della grazia di Dio Che ti dicono Ma non è per te Ma cosa stai facendo Sono proprio gli uomini Talvolta Che ti bloccano Sono gli stessi credenti Che bloccano La tua fede Che bloccano Il tuo Giungere Davanti al Signore Col tuo problema Sono proprio gli uomini Che Sono Attorniano Gesù Ma non Capiscono Le tue Esigenze Il tuo Bisogno E ti fanno Da tappo Ti fanno Da tappo Ti bloccano Ma tu cosa devi fare Devi cedere Devi fermarti Cosa ti dice La scrittura Ti dice Che devi andare Avanti Fino a quando Questo tetto Non viene scoperchiato E il tuo problema Non si presenta Davanti All'eterno Questo ti dice La scrittura Tu non ti devi Far fermare Da nessun uomo Tu devi andare Avanti Devi portare Il tuo problema Davanti a Dio Non importa A volte anche Il maligno Che ti può dire Ma chi ti crede Di essere Tu vuoi Questo dono Chi sei Tu hai peccato Hai offeso il Signore Hai fatto questo Hai fatto quest'altro Molto probabilmente Considerato Che Gesù Gli dice Va I tuoi peccati Ti sono rimessi Sicuramente La conseguenza Di quella malattia Poteva essere Anche il peccato Ma non gli è importato Nulla Allora Era avuto fede In Dio Hanno avuto fede In Cristo Gesù Che lo poteva guarire E hanno chiesto In questa maniera Hanno manifestato Di avere fede In Lui Che poteva guarirlo Poi certo Dipendeva da Gesù Guarirlo Dipendeva da Gesù Certo Ma loro Quello che hanno potuto fare L'hanno fatto Dovevano portare Il problema Davanti a Gesù Ma se noi Non andiamo neanche In preghiera A portare davanti Al Signore I nostri problemi Come possiamo Ottenere un esaurimento Fratelli E sorelle Quindi portiamo Non ci facciamo Fermare Da quello che si vede Con gli occhi Da quello che ci dicono Le persone Dalle persone Che si mettono In mezzo Dal diavolo Che ci suggerisce Che tanto a noi Queste cose Non ce le dà Non sono per noi Ma chi sei tu Che Dio ti dà Quel dono Che Dio ti dà Quel ministerio Chi sei tu Ma chi sei Tu hai peccato Io fesi Dio Va bene Questo può essere Anche vero Ma noi invece Siamo chiamati Ad andare Con piena fiducia Al Signore Al trono della grazia Invocandoli Dio altissimo In tutte le cose Affinché possa Esaudirci Noi non andiamo Al Signore Perché siamo santi Noi andiamo Al Signore Per la fede in Dio E per chiedere Di essere purificati Di nuovo Ogni giorno Se aspettiamo Ad essere santi Ad andare davanti a Dio Lì Ad essere perfettamente santi Non ci andremo mai Allora Anche se siamo In difetto Di molte cose Andiamo davanti al Signore Chiediamo pietà E misericordia Perché Gli perdona I tuoi peccati Ti sono rimessi Gli disse Veduta la loro fede Vedete Quindi i peccati Saranno rimessi La fede Si vede Se c'è E si ottiene Esaudimento Non dobbiamo Farci fermare Da nessuno Perché sono molti Quelli che Nella nostra vita cristiana Ci chiuderanno Il passaggio Fratelli E saranno proprio Quelli A volte Sono quelli vicini A noi Ma magari Non lo fanno Neanche con intento cattivo Però in quel momento A noi Non ci hanno compresi E ci fanno Da tappo Ci fanno Da tappo Da scoraggiamento Abbattono la nostra fede Abbattono la nostra fede Non ci permettono Senza perdere di vista Sarebbe andato via Loro Dove l'avrebbero inseguito Gesù Un servizio Un servizio Siamo esauditi Siamo esauditi Non deve fermarci nulla Nulla Deve fermare il credente Quando desidera qualcosa Dal Signore Questa è fede Un esempio Un altro esempio Di fede Da tenere bene presente Da mettere in pratica Adesso ne leggiamo un altro Di esempio di fede Anche questo Io vi dico che ogni passo Che leggo È un passo Che mi piace Veramente Anche quest'altro È un passo Un passo Formidabile Un passo Di quelli che ti lasciano Anche questo stupefatto Perché parlano della fede E qui dobbiamo andare In Matteo Leggeremo Quello che accade A un centurione E mi sembra Che è sempre di Capernaum Eh sì Il centurione Di Capernaum Ottiene anche lui Un esaudimento Ma come lo ottiene A noi ci interessa Come è riuscito Ad ottenerlo Affinché noi Imitiamo Vediamo Comprendiamo Cosa è la fede E imitiamo In qualche maniera Quelli che hanno Avuto fede Al versetto 5 8 5 Di Matteo Or Quando egli Fu entrato In Capernaum Un centurione Venne a lui Pregandolo E dicendo Signore Il mio servitore Giace in casa Paralitico Gravemente Tormentato Gesù gli disse Io verrò E lo guarirò Ma il centurione Rispondendo Disse Signore Io non son degno Che tu entri Sotto al mio tetto Ma di soltanto Una parola E il mio servitore Sarà guarito Poiché anche io Sono un uomo Sottoposto ad altri Ed ho sotto di me Dei soldati E dico a uno Va Ed egli va E a un altro Vieni Ed egli viene E al mio servo Fa questo Ed egli lo fa E Gesù Udito questo Ne restò Meravigliato E disse A quelli Che lo seguivano Io vi dico In verità Che in nessuno In Israele Ho trovato Cotanta Fede Or Io vi dico Cotanta fede Basta pure Fino a qua Questo Centurione E' stato Esaudito E' stato esaudito Vedete Per la sua fede Cosa dice Gesù? Gesù di questo Centurione Dice In Israele Non ho visto In nessuno Cotanta fede Quindi Questa fede Di questo centurione La dobbiamo Studiare bene Perché Gli dobbiamo Assomigliare Addirittura Questo qui A differenza Di quelli di Capernaum Che sono andati Loro A presentare Il problema Davanti Al Signore Questo dice Questa fede Di questo centurione Si manifesta In questa maniera Siccome conosco Io cos'è L'autorità No Il centurione Diceva Conosco cos'è L'autorità Conosco cos'è Il potere Il potere Di comandare Di dire Uno fai questo E fai quest'altro Quindi io so Il centurione Sto ragionando Come il centurione Io so Che se tu Siccome tu comandi Tu puoi fare Ogni cosa Perché se il Signore Il Dio Questo credeva Lui Lo credeva Che poteva farlo Gli disse a Gesù Di soltanto una parola Non c'è bisogno Che ti scomodi E vieni personalmente E magari lo tocchi Il malato Ma basta Perché tu sei potente Tu sei potente Da compiere Il miracolo Anche da lontano Basta che dici Una parola Ecco perché Gesù dice Che non ho visto Con tanta fede Quindi qui c'è Ancora più fede Di quella Che hanno avuto I quattro Portando lo storpio Qui addirittura Questo centurione Era arrivata La conclusione Che Gesù Essendo potente Poteva anche dire Una parola E quel suo servitore Veniva guarito Ecco perché Gesù Gli dice Dice così La scrittura Gesù Udito questo Quindi Gesù Comprese Dalle parole Che disse Quel centurione Che aveva fede Capite Questo cosa ci fa capire Che anche da come uno parla Noi possiamo capire Che quella persona Ha una determinata fede Anche dalle parole Possiamo Determinare Quanta fede C'è nel fratello Capite Come parla il fratello Noi possiamo capire Se quello Ha fede Oppure no E qui Gesù Dalle parole Dalle parole Di sottomissione Di comprensione Di chi era Gesù Che poteva fare Tutte le cose Che questo gli chiedeva E forse anche di più Crede Che poteva fare Anche di più Vedendo tutte queste cose Gesù Cosa rispose? Rispose Io vi dico in verità Che nessuno In Israele Che in nessuno In Israele Ho trovato Cotanta fede Cioè qui Sta misurando Gesù Che poteva farlo Aveva misurato La fede Di questo Di questo Centurione E Ne aveva misurata Tanta Ne aveva trovata Tanta Di fede In questo centurione Infatti Se lo leggete bene Più volte Vi renderete conto Che ma che fede Che aveva questo centurione Disse Basta che tu dici Una parola Basta che tu dici Una parola E questo anche Dobbiamo Credere Basta che Dio lo voglia Basta che Dica una parola E i nostri problemi I nostri desideri Le nostre malattie Saranno Guarite Saranno Esaudite Le nostre prechieri Per la fede Nell'iddio Vivente E vero Che può fare Al di là Di quello che noi Crediamo E pensiamo Vedete quindi Un altro esempio Di fede Questo Centurione Di Capernaum Che aveva Veramente tanta fede E Conosceva L'autorità Infatti era Uno dei capi Della centuria Di un centinaio Era un capo Dei romani Dell'esercito romano Che comandava Un centinaio Il centurione Centurione Un centinaio Comandava cento uomini Dava ordini E gli altri obbedivano E lui Credeva Che Gesù Poteva dare l'ordine Alla malattia Di andare via Capite La fiducia Che aveva Questo centurione Ma soltanto Con una parola Come lui diceva Al suo servitore O ai soldati Vai Fa questo E quelli Lo facevano Lui si è rivolto A Gesù Come dire Tu basta che Dici una parola Quella malattia Sparisce Perché tu Lo puoi fare In te C'è questa autorità C'è questa potenza Questo potere E così anche noi Dobbiamo credere Così anche tutti i credenti Devono credere Che si possa fare Quello che Chiediamo a Dio Quello che chiediamo Al Signore Ma senza Ombra di dubbio Però Non dobbiamo avere Nessuna Ombra di dubbio Dentro di noi Che una tale cosa Possa avvenire Come questo centurione Dobbiamo avere fiducia Come questo centurione Dobbiamo anche noi Ricevere le parole Cercare di ricevere Le parole Di elogio Di Gesù Verso questo centurione Il nessuno Trovato Con tanta fede Perché la fede È importantissima Vedete quante cose Hanno Quante vittorie In battaglia E quanto esaudimento Nelle richieste Si può ottenere Con la sola fede Vedete Quante Quante cose Si possono ottenere Per la grazia di Dio Mediante La fede Nelle cose Che domandiamo Con piena fiducia E vi voglio citare Anche un altro esempio Sempre tratto Dal Nuovo Testamento Adesso dobbiamo tornare Al Vangelo di Marco E cerchiamo Il passo Sulla donna Sirofenicia Marco 7 Dal versetto 24 Poi Partitosi di là Se ne andò Verso i confini Di Tiro Ed entrato in una casa Non voleva Che alcuno Lo sapesse Ma non potè Restare Nascosto Che anzi Subito Una donna La cui figliolina Aveva uno spirito Immondo Avendo udito Parlare di lui Venne E gli si gettò Ai piedi Quella donna Era pagana Di nazione Sirofenicia E lo pregava Di cacciare il demonio Dalla sua Figliola Ma Gesù le disse Lascia Che prima Siano saziati I figlioli Che Non è bene Prendere il pan Dei figlioli Per buttarlo Ai cagnolini Ma Ella rispose Dici bene Signore E i cagnolini Sotto la tavola Mangiano Dei minuzzoli Dei figlioli E Gesù le disse Per cotesta parola Va Il demonio È uscito Dalla tua figliola Quello che mi meraviglia Di questo passaggio È Che Gesù In un certo senso Sì Gesù è venuto Diciamo Per il suo popolo Cioè per il popolo D'Israele È venuto Ad annunziare L'Evangelo Ad Israele Dopo E nella sua croce Che Si sarebbero Ricongiunti I due popoli Il popolo Dei gentili E il popolo D'Israele Quindi dopo C'è stato L'annunzio Dell'Evangelo Della salvezza Per fede Per la misericordia Di Dio Dopo che Gesù È morto Inizialmente Gesù È stato mandato E lui Ha mandato A sua volta I dodici E poi i settanta Ad annunziare L'Evangelo Alla gente Di Israele In questo passaggio In questo passaggio Si trova davanti Una donna Pagana Gentile Sirofenicia Che non c'entrava Con popolo D'Israele In un certo senso Gesù La caccia via La caccia E gli dice E gli dice E la chiama La chiama anche Cagnolino Fa una figura No? Cioè usa questa figura Non è bene Dare del pane Prende del pane Dei figlioli Per buttarlo Ai cagnolini Capite? Ha cercato Di allontanare Quella donna In un primo tempo Non ha voluto Cacciare il demone Della figliolina Ha respinto La richiesta Ma questa donna Cosa ha fatto? Si è scoraggiata? Questa donna Se n'è andata via? Ah questo mi ha insultato Se n'è andata via? No È rimasta lì E cosa ha fatto? Lo ha convinto Con le sue parole Infatti Gesù dice Per cotesta tua parola Cosa vuol dire? Talvolta la situazione È veramente difficile E allora Si deve Nella fede Si deve usare Anche una Una forza Nella preghiera Per cercare Di convincere Il Signore Tu lo devi Convincere Tu devi imparare A pregare Anche in una maniera Come se Uso come L'uguaglianza Come se tu Lo potessi Convincere A darti A esaudire Le tue preghiere Con la potenza Della parola Che tu stai utilizzando Perché è possibile Cioè Il Dio Gradisce questo Questo passaggio Ci fa capire Che la nostra Insistenza Con una forza Nella preghiera Cercando appunto Di convincere Il Signore A darci quella cosa Anche con la forza Della parola Delle nostre preghiere Di fare Determinate preghiere In una certa maniera Con forza E con sapienza Anche con Conoscenza Della parola Cercando Come se si potesse Toccare il cuore No? E convincerlo Perché il suo cuore È stato toccato Dobbiamo andare a Dio Anche in questa maniera Sapere che si deve Andare a Dio Anche in questa maniera Non farsi fermare Vai a Dio Non ti ha ascoltato Sembra che non ti ha ascoltato Non ti ha esaudito oggi E ci devi tornare Domani Ci devi tornare Dopodomani Devi insistere Devi cambiare parole Devi usare Tutto il possibile Gli citi Anche dei passi Della scrittura Dice Signore Hai esaudito Quel re malvagio Ai tempi Dell'antichità Gli hai dato Quello che ti aveva chiesto Eppure sapevi Che era un re malvagio Ma l'hai esaudito Signore Tu hai dato questo A quello Hai dato questo A quell'altro Signore Anch'io lo desidero Ti chiedo Di donarmelo Di avere pietà di me E di donar Capite? Cioè bisogna andare a Dio Quando si va in preghiera Bisogna armarsi Anche di questo pensiero Insieme a tutti gli altri Armarsi il pensiero Che si può E si deve E anche convincere Il Dio Si deve convincere Il Signore A darci quello che Di cui abbiamo bisogno Naturalmente è chiaro Che sappiamo Che alla fine Questo è come noi Dobbiamo approcciare E andare Ma poi otterremo le cose Solamente se quelle Rientrano Nella volontà di Dio È chiaro questo Però adesso Noi stiamo parlando Di come noi Dobbiamo andare al Signore Di come Dio Ci deve esaudire Lo sa lui E opererà lui Magari Se ne parla poi Anche in un altro Per quanto riguarda La preghiera E quali sono le condizioni Per essere esauditi Ma adesso stiamo affrontando Il fatto che bisogna andare A pregare il Dio A chiedere a Dio Con piena fiducia E anche con una forza Di cercare Di compungere Il cuore Di Gesù Vedi Gesù La respinge Io sono venuto Per il popolo di Israele Cosa vuoi tu Pagana Cosa vuoi tu Peccatrice pagana Non è ancora Il tuo tempo Non è ancora Il tuo tempo No? E ma le risponde Bene però Quando la risposta Quando la risposta La supplicazione Ecco E' questo Quando la supplica E' convincente E' forte Viene ascoltata Da Dio Quindi ecco che Dobbiamo innalzare Anche le nostre suppliche In maniera Da compungere Il cuore di Dio Da convincerlo Con forza E con le parole giuste Cercare le parole giuste Anche per ottenere Quello di cui Abbiamo bisogno E qui ha risposto Bene Dici bene signore Infatti non si è opposta Dici bene Però C'è qualcosa Che Gli dice ancora Anche i cagnolini Sotto la tavola Si cibano No mangiano Dei minuzzoli Dei figlioli Cioè Lei sapeva Ha accettato Ha chiesto A Gesù Un minuzzolo Non ha chiesto Un regno O metà di un regno O ricchezze O altro Ha chiesto Quello che per lei Quello che per il Signore Era un minuzzolo Un qualcosa di piccolo Per Gesù Per lei Era una cosa di grande Perché sfamava La sua fame Perché acquisiva Quello di cui Aveva bisogno Aveva bisogno Che quel demone Fosse cacciato Che per lei Era una cosa importante Ma Perché per i cani Che mangiano il pane Che cade dalla tavola Loro si saziano Cioè Mangiano comunque Non muoiono di fame E per il Signore Era una cosa Piccola Da fare Una cosa Piccola Anche fatta A un popolo Che ancora Non doveva Non era stato stabilito Che questo popolo Ancora Ascoltasse L'Evangelo Ma è avvenuto Lo stesso Perché Gesù lo dice Per cotesta parola Va Il demonio È uscito Dalla tua figliola Quindi questa parola Che questa donna Ha detto Lo ha convinto Lo ha fatto Diciamo Ha fatto in maniera Di ottenere Quello che aveva Desiderato E richiesto E quindi anche la parola Vedete di nuovo La parola Una parola Convincente Una parola Forta Innalzata Dio In preghiera Che Per quella parola Si può essere Esauditi Perché anche dalla parola Si vede la fede Che noi abbiamo Quindi Anche attraverso Le parole Noi manifestiamo La fede E dobbiamo Insistere E non fermarsi A Alle prime Ai primi problemi Alle prime difficoltà Oppure vediamo Che una cosa Non ci viene data Comincia a tardare Aspettala Perché per certo Verrà Se Dio l'ha promesso Per certo Verrà Egli non mente Egli non può mentire Perché non è un uomo Non ha una natura malvagia Come l'uomo Come l'uomo ha Non ha una natura Che lo porta a peccare Dio Non può mentire Quello che ha detto È così E basta Quindi noi abbiamo Questa fiducia Che quello che Dio Ci ha promesso Lui lo farà Ed è potente Da farlo Quindi dobbiamo anche Credere Che lui Lo può Fare E abbiamo parlato Oggi Della fede Della fede E vi voglio ricordare Voglio chiudere Con alcuni passaggi Ad esempio In ebrei E' scritto E' scritto Ebrei 11 Versetto 6 Sono scritte Queste parole Or Senza fede E' impossibile Piacergli Fratelli Se uno non ha fede Non può piacere a Dio Non può entrare Nel regno dei cieli Se un uomo Non ha fede Se un credente Qui stiamo parlando Di credenti Se un credente Non ha fede Non può piacere a Dio Quindi Ci dobbiamo studiare Di crescere Di avere la fede E quindi di crescere Nella fede Di non venire meno Nella fede Quindi dobbiamo Alimentare La fede E quindi Sorge il problema Come faccio Per crescere Nella fede E la scrittura Ci risponde Anche a questo E qui dobbiamo andare In Romani Quindi la fede Ci serve Per piacere a Dio Ma Come cresce La fede La fede Cresce Come ci dice L'Apostolo Paolo In Romani Al capitolo 10 In Romani Al versetto 17 Così La fede Viene dall'udire E l'udire Si ha per mezzo Della parola Di Cristo Vedete Quindi la fede Viene dall'udire Udire che cosa? Barzellette? Storielle varie? No Dall'udire La parola di Dio Perché la parola di Dio È ferma È verace Si adempie Quindi Questo fa crescere In noi la fede La parola Studiando la parola Ci fa crescere Nella fede Perché leggiamo Abbiamo un bisogno Leggiamo che Dio Ha esaudito altri Leggiamo che Dio Ha dato questo Ha fatto questo E potente da farlo Da fare tante cose E la nostra fede Cresce La nostra fede Cresce anche Leggendo altre testimonianze La nostra fede Cresce ascoltando I fratelli Che sono stati guariti Liberati Battezzati Con lo Spirito Santo Che hanno ricevuto Doni spirituali La nostra fede La nostra fede La nostra fede Le scritture Bene E persevera Nella preghiera Cresce anche Nella fede Nel momento in cui Cessa Di studiare le scritture Non si alimenta più Della parola La sua fede Diminuisce La sua fede Crolla Può anche Essere Eliminata Infatti ci sono quelli Che naufragano Quanto alla fede Ci sono quelli Che si sviano Quanto alla fede Fratelli Noi non dobbiamo Essere tra quelli Noi dobbiamo essere Di quelli Che abbiamo Piena fiducia Nella parola Continuiamo a studiare La parola Ci atteniamo Alla parola Tutto quello Che non è Confermato Dalla parola Lo rigettiamo Lo rigettiamo Con forza Perché se io Accetto una menzogna Nello stesso tempo Sto anche Disprezzando la parola Faccio un esempio Se la parola Mi comanda Che io Io uomo Non devo Pregare col velo E mi metto a pregare Col velo Oltre che Sto disprezzando La parola Sto disprezzando Il Dio Non sto manifestando Fede Nella parola Capite Quindi Quindi Si disprezza Il Dio Che ha scritto La parola E ci ha dato I suoi comandamenti Quindi Atteniamoci Fratelli e sorelle Strettamente Alla parola Studiamo Leggiamo anche Dei libri Di testimonianza Un po' Meno Magari Dobbiamo essere sicuri Quando si leggono Libri di dottrina Dobbiamo sapere Che cosa si legge Perché se no Si perde tempo E si viene inquinati Dal veleno Quindi se i libri Di dottrina Che avete Non sono sicuri Venite inquinati Quello è così È una cosa certa Invece Se leggete Testimonianze Se leggete La parola State tranquilli Che la vostra fede Cresce Io non so Se crescerà Di tanto La misura In cui crescerà Non si sa Però cresce Questo è sicuro È una cosa certa In alcuni Cresce in una maniera Più veloce In altri Un po' di meno Ma L'importante È che cresca Perché ognuno Riceverà poi Una misura Di fede È quella Che Dio Ha stabilito Ma deve crescere La fede Deve crescere E la fede Cresce solamente Studiando La parola di Dio Leggendo Quello che Dio Ha fatto Perché se noi Leggiamo E crediamo In quello che Dio Ha fatto La nostra fede Sta crescendo Quindi già il fatto Già il fatto Che noi preghiamo Ci inginocchiamo Davanti a Dio A pregare Nella nostra cameretta E prendiamo Le scritture E crediamo Che Dio Ce le possa Insegnare Ci possa Spiegare Anche leggendole Da sola a casa Già questo È una grande Manifestazione Di fede Che purtroppo Molti credenti Non manifestano Più Perché si sono Datti ad ascoltare Solo il pastore Solo Determinate persone E non fanno Più niente A casa loro Perché Perché non hanno Più fede in Dio Hanno più fede Negli uomini Nel loro pastore Nel loro anziano Che In Dio E nella sua parola Non mostrano più fede Nella parola di Dio Quindi fratelli Ricordatevi che senza fede È impossibile piacergli Un cuore senza fede È un cuore malvagio Non è un cuore buono Ma è un cuore malvagio Quindi dobbiamo sempre stare fermi Attaccati Al Signore Alla parola E crescere Nella fede Per piacere A Dio In ogni cosa E ricordatevi che Le vostre opere Le nostre opere E il nostro modo di parlare Manifestano La fede Che c'è in noi Se l'altro È capace Sa queste cose Lui Valuta Riesce a valutarle È chiaro Perché se parliamo con uno Che è completamente ignorante Non conosce tutte queste cose Non valuta La misura Della vostra fede Quindi Invece Invece Ci sono dei fratelli Che conoscono le scritture E riescono a valutare Anche da come uno parla Se quella persona Ha fede in Dio Oppure no Ad esempio Una persona che ha fede in Dio E si è cibato della parola Quando parla Avrà sempre la parola in bocca Parlerà sempre Con parole E ragionamenti Tratti dalle sacre scritture Non viene Dalla sua cultura Dalla sua laurea In economia O in giurisprudenza O in altro Ragionamenti filosofici No Se ha fede in Dio Il suo parlare Sarà conforme Alla parola Dell'iddio vivente e vero A Dio Siano La gloria L'onore e la lode Nei secoli Dei secoli Amen